Oh, grazie, ragazzi. Il vitello, per favore. Eccolo. Emi, mi passeresti il maialino? Chi vuole il delfino? Il delfino? Ma i delfini sono intelligenti. Questo non lo era. Ha buttato tutti i suoi soldi in un videopoker. Allora, sì. Lo spiattatoio mio. Io vorrei la coda. Io invece voglio la pina. A me il cervello con il centro del linguaggio.